È una città di anziani che vive anche un invecchiamento precoce determinato anche dal fatto che i giovani, ci sono dei giovani che tendono ad andare via. Bari è tra le città più vecchie d'Europa, nel senso demografico del termine, con un incalzante invecchiamento della popolazione, eppure non è una città a misura di anziano. La fotografia di Bari rispecchia un po' la condizione degli anziani in tutta Italia. È una condizione di fortissimo disagio, per tre motivi. Il primo perché c'è mancanza di lavoro per i figli e per i nepoti. La seconda è la condizione dei servizi sociosanitari. E poi c'è un grande problema che riguarda il reddito, la tutela del potere d'acquisto delle pensioni. Da un'indagine conoscitiva condotto dallo SPI CGL è presentata a Bari in una follata sala la presenza dei vertici del sindacato e dello SPI e dell'assessore comunale alla welfare a Baticchio emerge tra gli over 65 e uno stato di difficoltà economica. Vivono con pensioni tra i 500 e i 1000 euro e non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Cosa è che manca? Ma assistenza domiciliare, luoghi di aggregazione, centri polivalenti per gli anziani innanzitutto. Poter vivere con maggiore sicurezza nei quartieri e anche dentro casa. Di contro però i nostri anziani vogliono sentirsi parte attiva della società, essere una risorsa. Questo è un elemento estremamente positivo. Anche quelle donne, maggiormente vedove e sole, che hanno un quotidiano tutto intradomestico, a parte fare la spesa e stare davanti alla TV non fanno altro. Ma il desiderio di attivarsi per la città c'è.